ora fai attenzione se non lo sai la maggior parte delle parole che contengono il gruppo qqq appartengono alla famiglia acqua acquario acquatico acquitrino acquaio subacqueo acqua marina bravo posso farti una domanda se la maggior parte delle parole che contengono qqq appartengono alla famiglia acqua acquirenti acquisto cosa c'entrano c'entrano perché per fare gli acquisti si usano soldi liquidi non l'ho capita canzone nell'acqua nell'acquitrino c'era un pennuto piccino piccino si acquattava e nascondeva perché l'acquolina un bel gatto aveva un acquario ha acquistato un subacqueo tutto spettinato ha pagato per l'acquisto un'acqua marina di pietra turchina cq 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 per favore aiutami tu cq 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 ora impara a usare cq nell'acqua nell'acquillo cq 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 e qui nell'acqua yo nell'acqua yo si è anacquato e questo acquarello ha tutto imbrottato cq 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 Per favore aiutami tu CQ, CQ, CQ Ora impara a usare il CQ CQ, CQ